Un altro mese di chiusura che va ad aggiungersi ai tre già subiti. Sono preoccupati i baristi e i ristoratori che devono affrontare ulteriori disagi. C'è chi deve ancora recuperare i fatturati persi e chi rischia il fallimento. Per questo l'Associazione Ristori Italia sta decidendo in queste ore se organizzare forme di protesta che facciano capire le reali difficoltà dell'intera categoria. Le reazioni degli associati sono disperate perché il 50% dei locali probabilmente dovrà chiudere visto che il loro lavoro si svolgeva prevalentemente alla sera. L'aumento dei contagi non è una giustificazione che appare sufficiente a chi ha cercato di garantire la massima sicurezza nei propri locali e che ora vede avvicinarsi un altro tracollo economico con forti ricadute sull'occupazione. Questo è stato un sistema per non farci avere né la cassa integrazione né un ristoro perché praticamente ti chiudono a metà. Siamo in un certo qual modo fregati da questa situazione perché la cassa integrazione ne potremo usufruire molto poco. Devi mandare in ferie i dipendenti, devi trovare però comunque sono tutti esborsi che dobbiamo fare e che non siamo più in grado di pagare visto che siamo al quarto mese. Nell'ultimo periodo ci racconta invece il barista Michele Pennacchini ha influito anche il terrorismo psicologico che ha portato un calo di clientele di conseguenza dell'incasso giornaliero per molti dimezzato. Cosa facciamo adesso? Cerchiamo di salvare il salvabile, diciamo così. Viene detto che nel bar e nel ristorante c'è il covid, perciò la gente non entra più nei nostri locali. Si rischia il fallimento? Altra domanda, c'è qualcuno che invece rimarrà aperto? Si rischia il fallimento? Sì. I nostri incassi non ci permettono di tenere i dipendenti al lavoro, però d'altronde non ci permettono nemmeno di lasciarli a casa, perciò per noi siamo, diciamo così, tra l'incudi nel martello, non sappiamo più come fare, siamo proprio veramente con l'acqua alla gola, veramente con l'acqua alla gola. Visto che il governo non ci ritiene una categoria essenziale, prosegue Michele, spero che non lo saremo neanche quando lo Stato ci chiederà di pagare le tasse. Il 2021 per noi deve essere un anno bianco, dove il bar, ristorazione e tutti quelli che fate chiudere oggi non gli chiedete niente poi, perché non abbiamo, come ho detto prima, introiti per pagare. O paghiamo i dipendenti, o paghiamo gli affitti, o paghiamo le tasse.